ciao le fanciulli benvenuti andiamo a vedere cosa accadrà durante la settimana come sempre farò due stese di carte con i miei tarocchi adesso le andremo a contraddistinguere con i segni a mazzetti ma io ti invito comunque ad ascoltarle entrambe vedrai che senz'altro troverai un piccolo messaggio anche nel mazzetto che non sarà la tua scelta principale nel frattempo volevo avvertire per chi fosse interessato che sono arrivate le carte le mie carte quindi se avete intenzione di prenderle potete iscrivermi mettendo nell'oggetto della vostra email infocarte e mandando una mail a questo indirizzo ovvero le carte di penelope chiocciola gmail.com per quanto riguarda i miei tarocchi poi ci sono gli oracoli il mazzo dei messaggi di lui e lei che anch'esso è bellissimo e poi le parole d'amore che sono due volumi ci sono le parole d'amore volume 1 che dentro sono così e parole d'amore volume 2 con l'altro cuore le ho fatte tutte della stessa misura in special modo questi due mazzi se li prendete entrambi potete benissimo metterle insieme e farle diventare un unico mazzo quindi se avete interesse se volete informazioni iscrivete mi pure detto questo identifichiamo i due mazzetti e diamo l'avventurina verde per il primo mazzo di carte ed il quarzo rosa per il secondo mazzo di tarocchi andiamo a vedere cosa ci aspetta settimana prossima partiamo subito vediamo il mazzo dell'avventurina verde ma prima di iniziare a interrogare i tarocchi voglio buttare qualche carta degli oracoli per vedere un pochino la situazione come butta le energie generali diciamo e poi andiamo più in profondità con i tarocchi allora come sarà settimana prossima per chi ha scelto l'avventurina verde però novità e passione ma direi che qui insomma la settimana si prospetta diciamo movimentata avventurina verde per settimana prossima come sarà settimana prossima e la tenerezza quindi qui sembrerebbero esserci momenti lo dice guardate come parlano queste carte ci sono delle novità che quindi posso intendere anche come novità nel senso proprio di notizie notizie che arrivano quindi non so una telefonata un messaggio pieno di passione e tenerezza ma anche proprio un momento no una novità quindi un momento passato con qualcuno ovviamente con cui potreste vivere un momento forse anche più di uno dei momenti di passione ma anche di tenerezza quindi qui diciamo che come presupposti wow la settimana non è affatto male andiamo a vedere con i tarocchi con i miei antichi amori andiamo a vedere allora per tutti coloro che hanno scelto l'avventurina verde come si prospetta la settimana come la trascorreranno quali novità ci saranno per queste persone cosa accadrà a loro allora spero le spero le vediate bene queste carte voglio che le vediate voi ok ma allora qui ci sono allora qui ci sono tantissime robe non so da dove cominciare ora magari vado pure ad ampliare quello che più mi piace allora qui forza sole cioè la dicono proprio alla grande allora dovete vedere le carte come delle note musicali in questo caso sono delle note musicali che compongono ecco una canzone una musica una melodia cioè suonano è una meraviglia tutte insieme allora qui ci può essere ci può essere allora sicuramente una settimana passionale in cui potreste vivere anche i tarocchi me lo dicono quindi in cui potreste vivere un momento proprio di passione con qualcuno che quindi vi piace che vi prende molto con cui avete un rapporto ma magari con una persona nuova con cui ancora il rapporto non lo avete visto che c'è questa novità quindi questa novità io la posso leggere sia proprio come novità nel senso una persona nuova che arriva e che vi piace cioè che vi acchiapperà subito in poche parole no potreste conoscere una persona letteralmente che vi attrae oppure potreste semplicemente corrispondere cioè avere una corrispondenza con qualcuno piena di passione e poi alla fine conoscerlo di persona posso vedere anche questo da queste carte fatto sta che qui c'è una grande passione che potreste vivere durante questa settimana ok ora qui sotto questa novità mi esce il 10 di bastoni capovolto che non è una carta meravigliosa tutt'altro in questo contesto qui mi può parlare di una come posso dire di una persona furba però mettiamola così io qui la leggo le leggo tutte insieme adesso voglio chiedere una cosa poi vi spiego perché vediamo qui ci può essere un qualcosa di nuovo che arriva dopo una forte delusione che abbiamo avuto nella nostra vita quindi magari avete chiuso qualcosa con qualcuno o semplicemente qualcuno vi ha deluso oppure la stessa persona con cui vivrete questo momento di tenerezza no potrebbe essersi comportato comportata male in precedenza con voi e tornare per chiarirsi perché io posso vedere anche un chiarimento un qualcosa che viene alla luce ma in senso positivo perché qui le carte mi portano verso il positivo non verso il negativo andiamo a vedere per l'avventurina verde esatto allora qui ci può essere stato essere in atto in questo momento essere stato nel precedente passato un qualcosa qui le carte mi parlano di rovina di rovina di disordine di un qualcosa che ci ha fatto tanto soffrire io credo che qui allora può essere sotto queste due forme magari per chi va in un verso per chi nell'altro nel senso che qui sicuramente tutti andrete verso il sole questo è po ma sicuro durante questa settimana c'è un qualcosa di molto bello di molto forte anche se vuoi la differenza qual è per chi di voi può essere che la situazione precedente allora mettiamola così allora o avete appena chiuso un rapporto comunque un qualcuno vi ha fortemente deluso mi dicono queste carte perché vi ha nascosto qualcosa perché è sparita questa persona perché si è comportata in modo furbo in modo ipocrita con noi ci ha nascosto qualcosa insomma qui arriviamo da una delusione ok però la situazione cambierà durante questa settimana perché una novità arriva che porta il sole bla 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 tutto quello che vi ho detto oppure viceversa perché non c'era nulla cioè qui fanno vedere una persona cioè voi che non ci crede più che non ci crede più come dire sì ciao tanto io tanto qui non ho niente non ho nessuno non sto provando più nulla per nessuno capito quindi una persona proprio come vi posso dire che si è arresa ecco non trovo una parola migliore per poterlo descrivere una persona che si è arresa diciamo così a questa sua vita deludente almeno dal punto di vista passionale perché qui mi fanno vedere come ho detto una passione passione però pulita perché c'è il sole quindi qui se incontrerete vedrete sentirete una persona durante questa settimana qui le cose sono belle perché c'è sia la passione come vi stavo dicendo no da questa carta quindi una passione molto molto forte però c'è anche la tenerezza quindi non è un discorso brutto sporco capito di una persona che può sentirsi usata in un qualche modo dall'altra no 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 qui c'è anche la tenerezza quindi qui semplicemente potreste conoscere qualcuno che vi ruberà il cuore o comunque che vi prenderà proprio tanto perché qui è forte qui nonostante oltre gli oracoli qui c'è forza sole cioè qui voglio dire io le carte sono molto molto forti quindi passione molto 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 fortissima ok una persona che potreste conoscere che vi piglia tanto ma anche un incontro proprio se la persona già la conoscete avete già un rapporto di un certo tipo qui potreste proprio vivere un momento passionale quindi bambini andate dall'estetista andate dalla parrucchiera sistematevi bene perché qui insomma ok ora fatemi sapere naturalmente da quale momento state arrivando voi se arrivate da una delusione sentimentale per esempio perché qui vedo anche questo da da queste carte una delusione sentimentale che state vivendo magari avete passato un momento insomma un po sì ma qui fanno vedere grazie anche non solo naturalmente ma anche grazie a questa a questa ruota un'evoluzione positiva di questa di questa situazione quindi sono molto molto contenta allora andiamo a investigare dicevamo quindi questa passione ma oltre a tutto quello che vi ho detto qui ci potrebbe arrivare anche una novità lavorativa ok per alcuni di voi magari per quelli che stanno cercando il lavoro ma anche per chi lavora oserei dire io se avete vissuto un momento un po inino tristo un po di asino magari siete disoccupati avete perso il lavoro capito per chi ha perso il lavoro è un pochino un pensierito che lo sta cercando qui ci può essere un'occasione da accogliere al volo un'occasione ovviamente positiva va bene di un lavoro che potrebbe arrivare qui qualcuno potrebbe richiamarvi e richiamarvi nel senso magari avete mandato dei curriculum è stata aspettando una risposta qui una risposta può senz'altro arrivare andiamo a vedere cioè guarda la che carte quindi qui senz'altro ci può essere un qualcosa che si è fermato che vi ha dato dispiacere sapete da queste carte che cosa vedo anche oltre naturalmente a tutte le altre che ho tirato qui ci può essere anche qualcuno di voi è stato deluso da una persona per ritornare al discorso di per ritornare al discorso di prima che è stato deluso da una persona da qualcuno che si era di promessa cioè voi si era di promessa di non volerne più sapere come dire basta è uno capito non ne voglio e invece poi quando questa novità affettiva perché come vedi qui c'è il cuore quando questa novità affettiva arriverà qui non si riesce più a mantenerci sulle nostre posizioni c'è proprio il crollo come dire un celafo a digli di no e mi lascio nuovamente andare quindi qui posso vedere anche questo da da queste carte va bene voglio vedere un attimo poi magari chiediamo qualche altra cosa anche ai miei oracoli che parlano in un modo stupefacente andiamo a vedere la luna e cos'altro vi promette vediamo un po in ino per la settimana allora per l'avventurina verde quali altre novità vedete per queste persone allora vedi qui c'è a renditi al divino quindi come dire non fare resistenza ed in effetti abbiamo visto che qui ci sarà un crollo delle tue resistenze per un motivo per un altro come dire non ce la faccio più ok vediamo per l'avventurina verde guarda e infatti le emozioni e qui non avevamo dubbi le emozioni voleranno alto come dire ci saranno delle forti 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 emozioni durante questa settimana ok ora le carte non mi parlano proprio di un ritorno del passato di qualcuno però mi fanno vedere questa forte novità dopo un momento magari in cui ecco siamo state siamo stati male per qualcosa o per qualcuno quindi vedete voi come leggerle nella vostra vita guarda infatti qui ti dice have faith in your dreams la carta ti invita ad avere fede e fiducia nei tuoi sogni come se qui un tuo sogno si potesse realizzare avverare show the world the real you quindi mostra la sua vera te la sua vera persona mostra chi sei veramente agli altri vediamo cos'altro guarda luck is on your side quindi la fortuna è dalla tua parte quindi qui c'è senz'altro una ma non avevamo dubbi voglio dire io dalle carte che abbiamo visto qui c'è senz'altro un un cambiamento un capovolgersi di una situazione che porta senz'altro al positivo io direi anche per quanto riguarda il lavoro è anche se qui mi vanno più che altro sulla sulla sull'amore sulle emozioni sulla passione ma io che ci vedo anche il lavoro perché mi parlano anche di una disoccupazione che c'era o che c'è quindi qui una preoccupazione monetaria economica ok quindi un problema in questo senso o anche proprio la perdita del lavoro la perdita di entusiasmo sul nostro lavoro qui si va proprio verso il sole verso una novità positiva che ci ridà carica ci ridà fiducia ci ridà entusiasmo e gioia quindi sono molto contenta vediamo i segni zodiacali che cosa dicono fammi sapere giù nei commenti qui c'è giove ed in effetti il sagittario quindi qui la fortuna che gira diciamo è il cambiamento allora come segni zodiacali io ci vedo il sagittario il leone il capricorno l'acquario lo scorpione l'acquario di nuovo quindi l'acquario viene confermato il capricorno viene confermato anch'esso la bilancia che vedo qua il sagittario lo abbiamo visto e lo confermiamo e il leone lo abbiamo visto lo riconfermiamo io direi di tirare un altro paio di carte dei miei oracoli perché mi piace molto come come parlano diciamo come si relazionano ok i miei oracoli volume 1 e andiamo a vedere cos'altro ci dicono allora quali altri novità guarda l'affetto e la tenerezza guarda qui mi fanno vedere l'uomo no che abbraccia il figlio il bimbo ma la parola chiave affetto quindi qui abbiamo visto la passione la tenerezza tenerezza affetto quindi ci siamo cosa la falsità che mi richiama se vuoi questo 10 di bastoni capovolto quindi qui o c'è qualcosa in ballo o c'è stato qualcosa in ballo con una persona con un uomo io credo guarda la falsità abbiamo detto la privazione e la decisione guarda allora qui c'è stato c'è stato c'è in ballo una decisione di privazione mi fanno vedere queste carte in altre parole messo tutto insieme durante questa settimana ci può essere l'avvicinamento o il riavvicinamento di qualcuno qualcuno che arriva se nuovo arriva se vecchio che ritorna dopo una situazione vissuta di falsità di tradimento quindi ci siamo sentiti traditi sfiduciati da qualcuno o come dicevo prima semplicemente da qualcosa da una situazione vedi c'è anche la pausa qua sotto ok però durante questa settimana io ci vedo un'occasione da accogliere al volo qualcosa di molto positivo che arriva nella vostra vita che porta amore tenerezza passione solarità gioia e chiarezza quindi voglio dire ne volete di più andiamo ad ascoltare l'altro mazzetto vediamo la settimana del quarzo rosa andiamo a vedere ma prima di partire dai tarocchi chiediamo un po ai miei oracoli che aria che aria tira ok allora per coloro che hanno scelto il quarzo rosa esce la generosità per coloro che hanno scelto il quarzo rosa come sarà la settimana come sarà la settimana di queste persone ok quarzo rosa la generosità ricchezza quindi qui ci sta che ci arrivi proprio un dono è perché non c'è la quarzo rosa la settimana del quarzo rosa e la spia e l'unione vedi allora ma è qui guarda le carte sono abbastanza chiare allora qui potremmo senz'altro durante la settimana ricevere un dono perché la generosità qualcuno che ci dà qualcosa vedi la bimba che porge il fiore all'altro bimbo guarda come sono e la ricchezza quindi magari dei denari che arrivano qualcuno che ci dona qualche cosa un regalo no che ci viene che ci viene fatto la spia mi fa vicino alla ricchezza in questo caso mi fa pensare diciamo così a un qualcosa anche che viene donato che viene dato però con un secondo fine per vedere una vostra reazione per avere qualcosa indietro da parte vostra e bla 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 qui i motivi possono essere i più disparati e i più diversi per ognuno di voi per ogni situazione vediamo con i tarocchi che cosa ci ci dicono allora per il quarzo rosa cosa accadrà durante la prossima settimana vediamo per queste persone quarzo rosa a me sono cascate direttamente quattro guarda al quattro di denari qui se vuoi anche qui c'è un dono vedi allora il quattro di denari l'otto di denari e la regina di spade allora qui durante questa settimana c'è l'arrivo senz'altro di un dono di un regalo che può essere un vero e proprio ma può essere anche un qualcosa che ci viene dato donato e offerto quindi una proposta di un qualche tipo ma guarda guardando questi due mi è venuto da pensare anche una proposta di matrimonio è ora magari si conteranno sulle dita di una mano e voglio dire non voglio dire però insomma fra di voi ci sarà anche chi riceverà un qualcosa di sto tipo comunque questa un'altra cosa qui il nocciolo che cosa ci vedo qui ci sono dei messaggi delle comunicazioni che arrivano che hanno dentro diciamo così che conterranno delle proposte delle offerte degli inviti quindi un invito a fare qualcosa infatti che ci vedo anche l'appuntamento di un qualche tipo ok un appuntamento di un qualche tipo però ahimè ora andiamo a vedere un po meglio nello specifico qui ci può essere anche un appuntamento un qualcosa un impegno avremmo dovuto fare con qualcuno che potrebbe saltare che potrebbe saltare a causa di un'altra persona quindi non per colpa vostra o per motivi x va bene andiamo ancora a vedere voglio vedere con i tarocchi vediamo cosa mi dicono per il quarzo rosa il sette di denari e il cinque di bastoni e l'otto di bastoni allora qui senz'altro come stavo dicendo ci viene proposto diciamo così ci viene proposto un qualche cosa un qualcosa da fare insieme ad altre persone o ad un'altra soltanto persona o altre persone non comunque da soli o da sole noi va bene ci viene proposto un qualcosa magari un viaggio uno spostamento dobbiamo andare o dovremmo andare da qualche parte anche uno spostamento voglio dire io di 20 30 40 chilometri e 100 chilometri capito non è detto un viaggio a miami beach non è detto quindi anche questo quindi qui c'è proprio questa proposta ma anche io ci vedo dei denari arrivare dei denari arrivare denari arrivare o comunque un lavoro un impegno un qualcosa di importante che arriva dopo una bella lotta cioè qui è come se avessimo lottato per qualcosa tanto che non ne possiamo più non so come meglio come meglio spiegarmi però insomma qui qualcosa arriva durante la settimana un invito un dono un regalo e infatti guarda qui arriva questo re di coppe con il sette di coppe da questa regina da questa regina di spade regina e magari era delusa arrabbiata amareggiata incavolata per un qualche cosa ma qui vedo arrivare un re arrivare un uomo in segno di pace come si dice ok arriva con le migliori intenzioni potrebbe arrivare con una telefonata molto carina potrebbe arrivare come stavo dicendo con un dono con un regalo ma anche per esempio qui ci potrebbero essere degli auguri di compleanno degli auguri di un qualche tipo ok diciamo un pensiero affettuoso un pensiero carino verso questa regina di spade che è una regina non voglio dire ferita ma potrebbe esserlo non voglio dire arrabbiata ma lo potrebbe essere ok diciamo verso una donna che è stata in qualche modo privata di qualche cosa ecco quindi però qui c'è un re c'è un uomo c'è una persona che viene in segno di pace che viene con un gesto con un gesto con un gesto carino verso questa regina appunto ok andiamo a vedere cos'altro per il quarzo rosa qui ci potrebbe essere un regalo vero e proprio proprio nel vero senso della parola vedi è il nove di denari quindi qui io ci vedo un invito ad andare da qualche parte insieme ecco un invito ad andare da qualche parte insieme magari lo potremmo come si dice guarda lo potremmo ideare come si dice lo potremmo progettare prenotare ne potremmo parlare non è detto lo facciamo per forza subito sto viaggio però qui se ne parla capito cioè qui viene offerto un qualche cosa andiamo a vedere come vedi qui c'è il pacco regalo andiamo a vedere che cosa ci vuol dire questo pacco regalo ma senz'altro è quello che vi ho già detto io vedi il cinque di spade il due di di spade cos'altro cos'è quel quattro di denari la morte e il sole vedi allora qui ci potrebbe essere come stavo dicendo questo re di coppe questo personaggio maschile io credo maschile io credo che farà un gesto di pace di riavvicinamento nei tuoi confronti quindi propone un qualche cosa magari proprio per ritrovare l'unione l'unione quindi per fare pace per ritrovare un accordo potrebbe anche essere un amico o un'amica vada bene non è detto che sia per forza un discorso un discorso d'amore potrebbe essere un collega ok quindi qualcuno che si propone o ripropone in senso proprio benevolo per come si dice per a pacificarsi non so come meglio come meglio dire andiamo a vedere la luna che cosa dice poi vediamo anche i segni zodiacali allora vediamo un po per il quarzo rosa cosa vedete accadere durante la settimana che mi è caduta una cosa vede ok allora qui ti dicono what do you need to release qui ti fanno una domanda cosa hai bisogno di lasciare andare quindi di tagliare qui c'è la necessità di tagliare con qualcuno o con qualcosa o ancora visto le carte che mi sono uscite qui magari potreste aver tagliato con qualcuno visto che qui mi uscite anche come regina di spade ok quindi questa rottura questa cosa però io vedo questo uomo questo re di coppe che bene o male vi potrebbe pure spiare potrebbe guardare un po i vostri movimenti o potrebbe come si dice dalle mie parti buttare il bago per vedere se abboccate quindi o farvi un augurio una telefonata un messaggio capito per vedere di ringraziarsi e di rientrare quindi qui questo cos'altro look at the bigger picture quindi non guardare solo le piccole cose ma guarda un po il complesso l'insieme delle situazioni per giudicarle cos'altro nothing will come of the situation niente verrà fuori da questa situazione si coraggioso e fai la prima mossa effettivamente qui fanno vedere da questa situazione potreste comunque uscirne non in modo troppo positivo in poi parole come dire sì magari ci sarà questa persona che tenterà in qualche modo un qualcosa però qui sempre regina di spade mi uscite sia che siate uomini o donne quindi come dire non ne verrà fuori nulla di positivo in poche in poche parole questo è il senso di quello mi stanno dicendo ora magari tiro ancora due o tre oracoli per vedere cosa aggiungono io voglio vedere nel frattempo i segni zodiacali andiamo a vedere con l'astrologia che cosa mi raccontano allora qui c'è il segno del cancro il toro il cancro quali altri segni zodiacali poi tiriamo ancora due o tre oracoli e andiamo a vedere cosa ci aggiungono poi c'è il segno del leone i gemelli la vergine il capricorno ma anche la bilancia i gemelli vengono confermati lo scorpione e il cancro che avevamo già che avevamo già visto io voglio tirare però ancora due o tre carte di queste allora qui l'unione la lasciamo qua che l'abbiamo presa già in considerazione cos'altro vedete per il quarzo rosa durante la settimana quindi ho visto volare una guarda il fascino e comunque sia mi fanno vedere una donna io credo che qui si tratti di una situazione in cui c'è un uomo sposato sposato fidanzato convivente vedete voi impegnato ecco perché c'è tanta sofferenza ok io credo che qui voi potreste anche decidere di andare verso qualcuno di nuovo allora qui durante questa settimana qui durante questa settimana io ci posso vedere anche allontanarvi da qualcuno per andare verso qualcun altro verso una nuova amicizia è come se ci rendessimo conto come dire non c'è più nulla da fa non so come meglio come meglio dire però le carte mi fanno vedere appunto anche una nuova amicizia c'è un qualcosa di nuovo o comunque la vostra attitudine capito la vostra decisione più quella di muoversi andare vedi guarda l'ascita l'avversario e l'abbandono come dire basta mi devo lasciare alle spalle questa situazione perché tanto che foro ne viene nulla in poi parole l'isolamento allora qui le carte fanno vedere come vi stavo dicendo un movimento verso il futuro come dire il passato basta tanto non ne cavo non ne ho cavato non ne cavo un ragno da un buco forse perché si tratta di un personaggio di una persona che ci ricercherà questa settimana che però è impegnata con qualcun altro ok quindi o proprio la situazione ci decideremo di lasciarla andare o più semplicemente visto si parla di una settimana questo appuntamento questo impegno che avevamo con questo personaggio potrebbe saltare per un qualche motivo non so se mi spiego quindi non è detto che finisca proprio questa relazione con il tizio o la tizia ma questa cosa che avremmo dovuto fare insieme salterà so com'è meglio dire perché voglio dire una settimana non è che ci può stravolgere completamente la vita quindi dimmi un pochino nei commenti che cosa stai vivendo che cosa riconosci in questa situazione e poi che cosa riscontrerai fammi sapere non è una settimana tragica assolutamente tutt'altro è per l'amor di signore va bene un bacione e al prossimo video ciao a presto eccoci qua vi lascio ai miei vi... no ciao a presto ciao a presto